L'idea a cui ci si vorrebbe affidare è quella di sviluppare, di pensare anche a prodotti completamente nuovi in grado di salvaguardare l'integrità dell'edificio nell'ambiente già esistente e nello stesso tempo di offrire vantaggi dal punto di vista dell'efficienza energetica per garantire migliori risultati per l'ambiente. Bisogna fare un grosso sforzo verso nuovi prodotti, direi alcuni anche pensati direttamente a tavolino.